Le trasferte con Francesca Di Monte come vanno? Quest'anno ci siamo viste parecchio, nell'ultimo anno ho visto più lei forse di alcuni miei familiari, però è un piacere, è un piacere perché Francesca è in primis una grandissima professionista, poi ha anche un po' più esperienza di me, quindi in certi momenti mi ha saputo guidare, essere la mia spalla, il mio supporto, ma anche insegnarvi un pochettino come ci si approccia, specie in certi ambienti internazionali. Che complimenti Francesca? Dolcissima, condividiamo tanto ultimamente, poi abbiamo fatto una bellissima esperienza in Australia, quest'estate. Quindi non un viaggetto dietro l'angolo? Non proprio, no, era un mondiale, quindi per noi anche il primo mondiale, per cui è stata un'esperienza fantastica, ci siamo divertite, abbiamo lavorato tanto, siamo cresciute tanto e spero appunto, come ci siamo detti prima, di poter andare sempre più avanti. E se non ricordo male, lo scorso anno c'è stata una terna proprio tutta femminile, eravate tu, Maria Sole, Tiziana Trasciatti, era Frosinone? Sì. La memoria mi assiste Francesca, vedi? Complimenti, faccio anche i miei complimenti.